Litta per terra, hai visto? Però funziona! Non c'è un po' di più! Decollo con freni inseriti ho fatto un commento è forte per terra così dai prepariamoci che troviamo mannaggia l'ami che cazzo fa non ho capito che ci ha messo da una parte vediamo dove è il turbovento qui a terra il vento non è lineare a frena è vese part in una giornata di vento freddo con molta turbolenza il pilota Sandro ha atterrato perfettamente sulla pista con una frenata con i freni progettati da chiamino perfettamente ha evitato tutto il fango che signori potete ben vedere perfetta la frenata ottimo oggi è 27 2701 2013 il primo progetto del 2013 grazie a tutti la parola